Si registra un nuovo caso positivo al Covid-19 a Mistretta. Si tratta di un uomo la cui positività è stata accertata nella serata di ieri, a seguito di tampone molecolare. Il soggetto è totalmente asintomatico. L'ASL locale, una volta accertata la positività al coronavirus dell'uomo, ha subito provveduto a mettere in isolamento i familiari e i contatti stretti avuti dall'uomo per un totale di circa 10 persone e a monitorare i movimenti fatti dallo stesso negli ultimi giorni. L'ASL ci tiene a sottolineare che per contatti stretti si intendono quelli avuti a meno di un metro di distanza, senza dispositivi di protezione, ovvero con le mascherine, in un ambiente chiuso e poco areato e in uno spazio temporale superiore ai 15 minuti. Adesso a Mistretta il numero dei positivi sale a 7 unità, ma in questi giorni tale numero dovrebbe scendere sicuramente, in quanto la famiglia con due bambini, risultata positiva, sta terminando i 21 giorni di isolamento e secondo disposizioni del DPCM, dopo questo periodo di tempo potranno tornare liberi. L'ASL ancora una volta raccomanda a tutta la popolazione massima prudenza e nessun allarmismo, di continuare ad indossare la mascherina, soprattutto nei luoghi pubblici e più affollati, di non creare assembramenti, di non uscire se non strettamente necessario, di lavare spesso le mani con acqua e sapone e gel igienizzanti e di contattare immediatamente il proprio medico di famiglia o l'ASL locale nel caso in cui si riconosce di avere dei sintomi riconducibili al Covid-19.